Oggi abbiamo ricevuto questa mail in ufficio, ve la leggo. Si comunica a tutti gli addetti di segreteria che è possibile, come di consueto, predisporre inoltrare all'ufficio competente la richiesta di autorizzazione al transito nelle corsie riservate e ZTL. L'ufficio PAS, corsie riservate e gestione ZTL, ha comunicato che la richiesta sovraspecificata può essere effettuata per una sola autovettura. Quindi i consiglieri hanno diritto, come di consueto, a un PAS per passare all'interno delle corsie riservate e delle zone a traffico limitato all'interno della città. Questo è ovviamente un privilegio, il Movimento 5 Stelle di Milano lo rifiuta, non lo chiederà neanche e presto chiederemo a tutti i gruppi consigliari di fare lo stesso. È giusto che all'interno della città ci si sposti con i mezzi pubblici.